Anticipazioni Beautiful. Venerdì, 15 gennaio 2021. Brooke, si rende conto di aver commesso un errore, a togliersi la fede. E lo confida a Hope. La ragazza, ricorda di aver fatto ugualcosa con Liam, tempo addietro. Brooke, le rammenta che, in quel periodo, era continuamente manipolata da Thomas. Hope, poi, sposta l'argomento sull'adozione di Douglas. Un avvocato, le ha detto che, in California, è possibile optare per l'affidamento congiunto, tra genitori naturali, e adottivi. Brooke, crede che Liam non accetterà tutto questo. Ma Hope, non è intenzionata a fermarsi. Nel frattempo, a Villa Forrester, Ridge, e Thomas, si preparano al ritorno a casa di Douglas, da scuola. Ad un tratto, arriva una telefonata di Hope, che spiega che, a breve, li raggiungerà, per lasciare loro alcuni indumenti del bambino. Thomas, sembra apprezzare il gesto. Ridge, invece, diventa molto pensieroso. Più tardi, Douglas, vedendo Hope sull'uscio di casa, la abbraccia con emozione. I due, passano un po' di tempo insieme, parlando anche della festa di Halloween, organizzata da Eric, per il giorno successivo. Hope, accetta. Rimasta sola con Thomas, ne approfitta per avanzargli la sua idea. Diventare co-genitori, e crescere il piccolo insieme. Thomas, sorride con gioia. Tornata a casa, Hope, informa Brooke, di aver quasi raggiunto il suo scopo. La Logan, però, è preoccupata. E le consiglia di affrontare subito, la questione con Liam. Certa che si mostrerà molto contrariato. Grazie a tutti.